Musica Proseguono senza sosta i lavori per la realizzazione del campo che dovrà ospitare dal 14 al 16 settembre l'incontro di Coppa Davis tra l'Italia e Cile, valido come match di play-off per la permanenza nel World Group del 2013. Dopo l'ok arrivato in tempi record dei tecnici della Federazione Italiana Tennis per il campo in terra rossa, sono infatti cominciati in anticipo sulla tabella di marcia i lavori per la realizzazione delle tribune cominciando dal lato di Piazza Vittoria. I lavori dovranno essere completati entro l'8 settembre e porteranno alla realizzazione di spalti per circa 4.000 posti. Continua a ritmo serrato anche la vendita degli abbonamenti per l'evento. Sono già circa 1.200 le tessere vendute da 60 e 90 euro. Da lunedì 3 settembre saranno in vendita invece i biglietti per le singole giornate. Entro la fine del mese cominceranno anche le attività per la costruzione del villaggio aperto al pubblico con stand e capannoni lungo via Caracciolo, lato villa comunale fino al circolo del tennis. Il villaggio sportivo con i prodotti degli sponsor sarà invece recintato e sarà costruito all'altezza della Rotonda Diaz intorno alle due fontane.